Ciao a tutti e ben ritrovati con il nuovo appuntamento di Hobby Week. Vi auguriamo una serena e felice Pasqua, considerato che oggi è domenica 17 aprile 2022 e festeggiamo appunto le festività pasquali. In questo numero vedremo tanto pubblico impiego, vedremo memorizzazione giuridica e vedremo anche come prepararsi al meglio in vista della prova scritta del concorso categoria C per i centri per l'impiego della regione siciliana della quale è stato già pubblicato il calendario. Quindi passiamo subito alla prima area, quella dei video. Iniziamo dall'articolo 117 della Costituzione, dal video che Simone ha realizzato su questo articolo, in particolar modo vediamo come Simone ha dapprima analizzato e commentato l'elenco dei 50 punti che caratterizzano la competenza esclusiva dello Stato prevista dallo stesso articolo 117 e poi vediamo come Simone applica le tecniche di memorizzazione per riuscire a memorizzare in maniera permanente questo elenco pur di 50 appunti e memorizzarlo per sempre all'interno della sua memoria a lungo termine. Ascoltiamo un breve intro prima di passare all'area successiva. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, che è il primo vincolo, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, obblighi internazionali. Quindi le fonti, diciamo, di livello superiore alla fonte primaria. Sappiamo che le leggi nella gerarchia delle fonti hanno il cosiddetto ruolo di fonte primaria, ma sopra di sé hanno la Costituzione, le fonti dell'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali di vario tipo. Bene, chi vuole continuare a visualizzare, a vedere il video, può farlo tramite il canale YouTube di Simone oppure tramite il link che trova all'interno della versione testuale di Hobby Week. Si riguarda il contenuto sui concorsi, vi presentiamo l'esercitazione di dieci quiz che ha realizzato Simone, che commenta e realizza questi quiz per l'impiego, che funge però da anteprima all'evento più grande, quello prevì in programma giovedì 28 aprile alle 18.30, in cui verranno commentati 50 quiz relativi ai centri per l'impiego, quindi sia questo video da dieci quiz che quello da cinquanta sono un'ottima esercitazione, soprattutto perché si sta preparando ai concorsi dei centri per l'impiego della regione siciliana, il cui calendario è stato programmato in particolar modo per le categorie C a partire dal prossimo 2 maggio. Ascoltiamo una breve intro prima di passare all'area successiva. Intanto ringrazio Rosanna che ha già acquistato ed è pronta a partire. Allora, iniziamo. Domanda 1. Scrivete nelle risposte 1A, 1B, 1C. Il contratto d'opera, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, stipulato da un lavoratore autonomo, è A. Un contratto di lavoro subordinato, B. Un contratto con cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo e subordinazione nei confronti del committente, C. Un contratto di lavoro a progetto. Uno A, uno B, uno C. Può essere incompattibile, è ovvio che se siamo nel contratto d'opera, siamo nel contratto nel quale ovviamente non può essere un contratto di lavoro subordinato, anche perché la domanda usava la parola autonomo, quindi non può essere subordinato. Ne può essere un lavoro a progetto, che era uno specchietto per le allodore con riferimento alla parola contratto d'opera. Per continuare a visualizzare il video potete andare sul canale YouTube di Simone o anche su Hobby Week, la versione testuale, all'interno del quale trovate anche il link alla versione podcast dello stesso video. Per quanto riguarda la community, invece, abbiamo selezionato il post di Roberto T25, il quale chiede se un dipendente, un soggetto, possa avere contemporaneamente con la pubblica amministrazione sia un contratto di part-time a 18 ore a settimana, sia un rapporto previsto dall'articolo 110,2 del Tupi, sempre con 18 ore a settimana. E qualora questo fosse possibile, il soggetto comunque non volesse accedere tramite partita IVA, Roberto si chiede anche se nelle ore restanti al di fuori di quelle previste dai due contratti, questo soggetto può avere la possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione come docente, formatore o pubblicista. A questi dubbi risponde Simone Chiarelli, sostenendo chiaramente che non si possono avere due tipologie di rapporti di lavoro pubblica amministrazione, neanche se uno di questi due contratti è un contratto con rapporto part-time inferiore al 50%. Mentre per quanto riguarda invece la collaborazione, i rapporti di collaborazione, l'articolo 53 del Tupi prevede che appunto esiste un'autorizzazione o a un'attività esterna, oppure quindi un'autorizzazione extraimpiego, oppure anche una semplice comunicazione da parte del soggetto, del dipendente che vuole intrattenere questa collaborazione in base chiaramente alla situazione specifica del caso. Chiudiamo l'aggiornamento settimanale di Hobby Week parlando della sentenza e della Corte di Cassazione emanata a sezioni unite riguardo l'ambito del pubblico impiego e in particolar modo i trasferimenti di dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha sottolineato come non sono previsti meccanismi di compensazione riguardanti la copertura della possibile maggiore spesa nel caso dei trasferimenti di dipendenti pubblici in quanto questa compensazione deve essere esclusa dal fatto che i dipendenti trasferiti rimane applicato la contrattazione del comparto di provenienza oppure può essere applicata la contrattazione del comparto di destinazione qualora questa non preveda una maggiore spesa, quindi degli oneri di spesa maggiori rispetto a quelli della pubblica amministrazione di provenienza. E quindi il tutto però chiaramente per un periodo di tempo ragionevolmente limitato affinché si permetta, si dia la possibilità di riorganizzare anche le funzioni che sono state trasferite e di reperire anche le risorse finanziarie per affrontare il trasferimento. Siamo giunti al termine anche di questo nuovo aggiornamento vi rinnoviamo i nostri migliori auguri di una buona Pasqua e vi invitiamo a rivederci al prossimo aggiornamento di Hobby Week. Grazie e buona giornata a tutti.